Buongiorno, ben arrivati! Siamo allo scampolo di Rovigo, negozio di tessuti di qualsiasi genere, sia per abbigliamento che per arredo casa, abbigliamento confezionato. Volevo dirvi, state seguendo le dirette che stiamo facendo per tv su canale 125? Perché anche là le facciamo tutti lunedì pomeriggio, dalle 14 alle 17 e anche là vedrete dei capi di abbigliamento che vengono presentati da mia cognata, che sono stupendi. Mi raccomando, seguite! Se non riuscite a vedere per tv, su canale 125, dopo vengono trasmesse anche sia su youtube che su facebook. Quindi mi raccomando, seguiteci anche là, grazie! Allora, iniziamo! Guardate che tutine meravigliose! Allora, tutine in tessuto che non si stropiccia. Allora, abbiamo il sotto, dalla vita in giù, il pantalone a palazzo tutto plissettato. Poi c'è un elastichino in vita, un elasticino che dopo voi lo adattate perché se io tolgo il laccetto, guardate, dopo guardate che misura arriva questa tutina. È una taglia unica, quindi le indossiamo tutte. E sopra c'è il corpino incrociato. Meravigliosa! Allora, in bianco e la stessa tutina c'è anche in nero. Costano pochissimo. E dopo, volendo, guardate questo coprispalle. È particolarissimo. Allora, è a camicia perché abbiamo le maniche, abbiamo il collettino, è senza bottoncini davanti e dietro abbiamo questa apertura qua. Guardate, è particolarissimo. Quindi questo, volendo, lo potete mettere tranquillamente su queste tutine qua che sono smanicate. Ecco qua. E noi facciamo il nostro completino così. Guardate che bello che è. E potete metterlo sia sul bianco, lo mettete sul nero, e dopo su qualsiasi altro colore volete voi. Perché il nero va bene un po' sul tutto. Poi, guardate questa camicia a poncio, quant'è bella. È in setta e viscosa. Ha sulla manica un polsone in maglia. Guardate. E arriva sopra al ginocchio. Quindi, volendo, lo potete portare anche come vestitino. O, altrimenti, se abbiamo una cerimonia, lo mettiamo con il nostro bel pantalone, gonna pantalone, guardate, morbidissima, molto ampia, e facciamo il nostro bel completo così. Guardate quanto è bello e elegante. Setta e viscosa. E anche questa ha una cerimonia o un evento importante. Questo è meraviglioso. Poi, guardate questi pantaloni in jeans. Morbidissimi. È un jeans proprio, proprio leggero, leggero, freschissimo. Guardate che belli che sono. Hanno questo laccetto qua. E se noi apriamo il laccetto, vi faccio vedere la vestibilità che hanno. Guardate. Quindi, anche qua, taglia unica. E possiamo metterlo tutte, sia magre che un po' robuste. Perché dopo lui, come vedete, veste abbastanza. Lo mettiamo sopra con questa bellissima camicina in sangallo, di puro cotone. E che coppettino che esce. Camicina è freschissima anche questa, perché il fondo è un battista di cotone tutto ricamato. Poi abbiamo la rouge sulla manica. È finita con le cappettine sotto. Vedete che bello che viene il completo. Oppure, non volete metterlo con la camicina in sangallo, la mettiamo con la nostra bella camicina in puro lino, un po' più corta davanti, più lunga dietro, spalla scesa. Guardate quanto è bello anche così il completo. Oppure, un'altra alternativa, la possiamo mettere con la maglia di puro cotone, con il taglio un po' asimmetrico, un taglio un po' particolare, vedete, con le punte. Guardate che bella che è. Anche questa ha la spalla ascesa, anche questa ha veste molto, perché è sempre una taglia unica, però dopo, vedete, è molto morbida. E facciamo complettino così. Guardate che bello. Spendendo pochissimo. Poi, guardate questa camicia, se non è bella. È una camicia in lino. Guardate, bottoncini in legno. Ha proprio il bottoncino. Guardate che bello. Poi c'ha il taschino in pizzo e tutto il dietro con questo inserto sempre in pizzo. La testa non è meravigliosa. Più lunga dietro rispetto al davanti. La manica dopo, se noi apriamo qua dove c'è il bottoncino, si può portare a manica lunga oppure arrotolata, fate la manica tre quarti. Che bella che è. Anche questa con un jeans, con un bel pantalone bianco. Direi che è meravigliosa. Poi camicina in setta e viscosa con, vedete, allora l'apertura fin qua, collo a camicia, manica lunga e sotto viene chiusa con il polsino che arriccia la manica e bottoncino. Guardate quanto è bella. Anche questa è una taglia unica e la possiamo abbinare al nostro pantalone con la stessa fantasia, sempre in setta e viscosa, pantalone a palazzo, che anche questa è una taglia unica ma veste comunque abbastanza. E facciamo il nostro ben completo così. Anche questo possiamo andare tranquillamente a una cerimonia, a una serata importante. Pantalone, sempre in setta e viscosa, guardate, con il disegno animalier. Anche questo è una taglia che veste molto. Adesso vi dico anche quanto fa di giro. Allora arriva a 100 abbondante come giro una volta che l'elastico viene tutto teso. Anche di più comunque, perché vedete, cede, cede tanto. Allora, questo bellissimo pantalone io l'ho abbinato alla camicia a poncio in viscosa, così. Che questi ponci adesso stanno andando tantissimo questi poncetti qua. Guardate che bello che è il completo. È un poncio in viscosa, è molto fresco, morbidissimo e indossato, non vi sembra neanche di averlo. Guardate, completo così, direi che è un altro completo molto importante. Poi, invece adesso andiamo su un pantalone sempre a palazzo ma in viscosa. Questa è tutta viscosa. L'altro era setta viscosa, questa invece è tutta viscosa. Sempre taglia unica, quindi anche questo veste abbastanza. Guardate, con l'abbassamento sotto e avendo la fantasia con il verde, qua abbiamo abbinato il poncio verde. e lo stesso pantalone c'è anche con la tinta biscotto, così, e sopra allora mettiamo il poncio, la camicia a poncio, tinta crema, così. Guardate che bello che è, che delicato come completo. e anche questo viene a costare poco come completo ma è molto ad effetto. poi c'è anche lo stesso pantalone e anche con il nero. E allora ecco che qua mettiamo sopra il poncio nero, così. Per i prezzi, qualsiasi cosa vogliate sapere, contattateci su Whatsapp e noi vi diciamo tutto quello che volete sapere, prezzi, misure, tutto. Poi, guardate questo toppettino qua che carino che è. Ha questo fiore davanti tutto in tessuto e dietro c'è la maglina, la maglina che dopo si adatta, guardate, dopo si adatta al vostro corpo. E questo toppettino qua io l'ho abbinato con questo pantalone in viscosa che ha il pizzettino sotto. È un pantalone a palazzo sempre a taglia unica. Facciamo il completo così. Anche questo vi viene a costare pochissimo come completo. Poi vogliamo completare il tutto. Possiamo mettere sopra questo cardigan in viscosa. Guardate, morbidissimo anche questo. Con questo taglio particolare, il collo tutto drappeggiato. il collo poi, allora, il cardigan è in viscosa. Il collo invece è tutto chiffon, quindi tessuto trasparente, sempre di viscosa. Tasche applicate. La manica anche qua si può asrotolare quindi diventa una manica lunga. Dietro è così, tutto bello morbido e sotto sempre con lo chiffon. È meraviglioso come il cardigan. Anche questo molto elegante. Allora, possiamo fare così e mettiamo sotto il nostro toppettino con il fiorellino il nostro pantalone in viscosa con il pizzo sotto. Guardate che completino se non è un altro completo da cerimonia anche questo. Bellissimo. Spendendo pochissimo. Chiamateci per i prezzi che vi diciamo tutto. poi completo in tessuto elasticizzato con allora il gilet che viene chiuso a doppio petto oppure lo potete portare aperto. Se lo chiudete dopo c'è un laccetto dietro che fa il giro della vita e ve lo annodate davanti. Anche questo è taglia unica e abbinato al pantalone sempre di quelli a modello un po' a ovetto che si restringono sotto. Ecco qua il nostro bellissimo completo. Questo mi sa che è anche l'ultimo che mi è rimasto. Poi sotto a tutto volendo mettiamo la nostra canottina così con i svaroschini tanto da dare un po' di luce quindi se portiamo il gelè aperto facciamo dopo la canottina con gli svaroschini sotto così e il nostro pantalone ecco qua. Poi volendo potete anche alternare il gelè nero al bianco e qua mi è rimasto solo il gelè perché il pantalone è stato venduto da solo guardate che bello anche così fatte il gelè bianco con la riguettina nera e sotto il topettino nero con gli svaroschini e dopo il pantalone o nero o bianco come piace di più a voi. Poi canottine in lino ecco questa canottina è la stessa che sto indossando io così con i bottoncini in legno dietro guardate eccola qua l'indossata è molto bella perché è molto fresca sta bene addosso non vi sembra neanche di averla però vedete è semplice come modellino però dopo vedete io l'ho messa con il pantalone a tulipano a tulipano oppure la potete mettere con un pantalone più largo così sempre in purolino però più morbidone che va giù proprio con la gamba larga dopo vedete voi se piace di più perché io sia questo e ne ho ancora anche di questi qua a tulipano che sono molto belli indossati allora questa c'è in bianco e poi in verde verde militare eccola qua e questa infatti l'ho abbinata col pantalone a tulipano sempre in purolino ecco qua quindi lo stesso completo che sto indossando io però in verde altro bel cardigan in lino lino e cottone guardate sempre modello bello morbido che va giù bello ampio il collo sempre bello blusante tasche applicate è il modello di quello che abbiamo visto prima in viscosa vedete questo dopo invece è tutto in lino lino e cottone però la righettina fino a qua va in verticale e poi il motivo sotto è in orizzontale per fare un po' di contrasto anche questo è bellissimo indossato e questo volendo lo possiamo mettere sopra al nostro completo bianco che abbiamo visto prima facciamo la nostra canottina in lino il nostro pantalone e sotto la canottina ecco qua guardate viene stupendo come abbinamento e comunque è una tinta neutra che dopo la potete abbinare con quello che volete che vi piace poi sempre la canottina che sto indossando io c'è anche in beige eccola qua adesso qua io l'ho abbinata a una collana di fili di cotone blu perché dopo c'è il pantalone in viscosa il pantalone a palazzo in blu così guardate che bello sto completo e costa pochissimo poi camicina come quella che ho indossato io nella diretta della settimana scorsa in viscosa con la rifinitura sulla manica a costina adesso questa sono riuscita avevo avuto tantissima richiesta su quelle nere purtroppo non le ho più trovate e l'ultima che ho trovato è questa in tinta olio in color olio vedete è bellissima come come casacchina come modello però non ci sono più i colori questo era l'ultimo rimasto adesso io l'ho abbinato con questa bella collana in cauciù che sono le collane che teniamo noi che sono leggerissime e costano pochissimo però come vedete fanno molto molto effetto e poi sotto il pantalone in purolino pantalone bello ampio così chiaro che riprende il colore della collana ecco come vedete con tessuti semplicissimi modelli semplicissimi guardate che completino che esce direi che è molto molto raffinato e sì perché a volte non serve mettere addosso chissà cosa per essere eleganti guardate basta anche poco ok allora altro bel pantalone questo invece è in battista di cotone anche questo bello ampio taglia unica vedete con l'abbassamento sotto così e qua lo possiamo abbinare con questa magliettina in viscosa proprio maglia semplicissima perché tanto c'è già il pantalone che fa abbastanza movimento guardate un altro ben completo così poi vi faccio vedere l'ultimo coprispalle l'ultimo poncio che è rimasto di quelli in chiffon che avevamo i diversi colori insomma è rimasto solo questo rosa particolare l'ultimo in assoluto vedete questo è bello messo sopra a degli smanicati messo sopra anche a delle tutine adesso qua io l'ho abbinato con questo pantalone bianco qua voi mettete sotto una canottina semplicissima questo bel pantalone morbido qua e sopra il vostro poncetto guardate così se non è bello come completo anche questo e anche costa poco 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 chiamateci che diciamo i prezzi altro coprispalle allora settimana scorsa li ho presentati in pizzo di cotone con i fiorellini adesso è sempre pizzo di cotone però con un disegno un po' più geometrico fa questo questo rombo qua vedete tutto cotone e dopo fa tutta questa lavorazione qua sulle maniche e sulla parte sotto anche questo è molto molto bello molto d'effetto e potete metterlo sopra tutto poi una magliettina con il collo tutto blusante è una maglia indiscosa qua abbiamo già adesso manica lunga e questa la abbiniamo allora c'era anche il pantalone uguale però quello è stato venduto ma volendo la possiamo abbinare col pantalone a ovetto in beige così ed esce lo stesso un bellissimo completo poi voglio farvi vedere anche questo altro toppettino qua che è bellissimo particolarissimo allora ha tutto il corpetto in costina quindi si adatta perché dopo cede vedete cede molto e ha tutti questi fiori in organza applicati con queste perline qua guardate se non è una meraviglia io intanto l'ho preso nero però se volete ci sono anche altri colori dopo vedete abbinato con il pantalone a palazzo così esce un completo da serata meraviglioso dopo un bel coprispalla di quelli che abbiamo noi in una voile trasparente e andate a una serata che fate un figurone poi vi faccio vedere per ultimo perché il tempo sta finendo abbiamo dei clienti da servire allora guardate questo maglioncino qua se non è bello allora il corpo è sempre in maglietta di in costina vedete la magliettina di cotone poi c'è questo cuore qua con l'apertura vedete dopo sotto si vede la pelle con tutti questi svaroschi è meraviglioso e la manica è tutta una manica lavorata in organza vi faccio vedere che c'è la trasparenza guardate è stupendo è veramente veramente bello anche questo molto d'effetto e costa pochissimo contattateci per i prezzi per qualsiasi cosa volete sapere contattateci mi raccomando bene per questa mattina il tempo è esaurito ci vediamo alla prossima grazie a tutti vi auguro una buonissima giornata grazie di cuore mi raccomando seguiteci anche su canale 125 grazie a tutti arrivederci grazie grazie a tutti 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 grazie a tutti